Nei giorni scorsi l'intensificazione delle attività di intelligence e di capillare controllo economico del territorio ha permesso ai baschi verdi della Guardia di Finanza di La Mezzia Terme di sequestrare nel corso di un'operazione di servizio 10.000 oggetti tra capi di abbigliamento, accessori e giochi per bambini abilmente contraffatti. La mirata attività investigativa svolta dai finanzieri ha permesso di individuare e quindi sottoporre a controllo un'attività commerciale gestita da un cittadino di nazionalità cinese ubicata a Nicastro. Durante il controllo del negozio le fiamme gialle hanno subito notato moltissimi prodotti esposti per la vendita e stoccati nell'esercizio commerciale, artatamente e abilmente contraffatti, risultati quindi privi dei dati identificativi quali il copyright e il trademark che riconducano ad una produzione originale, privi dell'etichetta sulla quale normalmente compare l'indicazione dell'azienda produttrice autorizzata dalla casa madre e detentrice dei diritti di tutela del marchio. Inoltre l'esercente non ha esibito alcuna documentazione fiscale compravante il regolare acquisto della merce. Anche su tale versante la Guardia di Finanza provvederà adesso con le dovute contestazioni di rito. La maggior parte dei prodotti sottoposti a sequestro ricavano i ben noti loghi di famosi personaggi di cartoni animati di Walt Disney, di Minions, oltre che molti altri personaggi televisivi di serie tv per adolescenti e ragazzi. La titolare dell'esercizio commerciale è stata segnalata alla Procura della Repubblica di La Mezzaterme per i reati di contraffazione e ricettazione.